Oh, hey, non vi avevo visti? Und vi come una... Devi guardare in camera. C'è una camera? Oh, hey, non vi avevo visti? Und vi come... No, guarda a sinistra. La tua. Oh, hey, non vi ho sentiti entrare? Und vi come una pittura? Und colazione in nudità? Io sono Jürgen Klaus von Schwitz. Possiamo cominciare? Che dite? Oggi dipingeremo dei wunderbaren prati. Che colore è l'erba? Verde. È giunta l'ora. Oh, che bel verde. Non avere paura dell'erba. Passiamo ora ad un cielo blu. Das ist schon. Ma pensiamo alla colazione. Vorrei cominciare con dei Sirius, non solo perché nutrienti, ma anche perché hanno un piccolo foro al centro e così se zoffochi puoi respirare. Un po' di latte della mamma. Undo una piccola parola del nostro sponsor, Coca-Cola. Se un tedesco la beffa è quanto valevo far. Non è Coca-Cola. Piccoli alberelli insieme ai pastorelli. Ma vediamo a che punto sono i nostri Sirius. Che dite? Ah, sì, sono quasi pronti. Sono un serial killer. Ucciderò i miei cereali. Ma non sono Sirius. Non hanno il buco. No, che non ce l'hanno. Vilche farvi sta scegliendo? Bianco. Questo gatto è taltonico. Vedi di metterti dei vestiti. Va bene? Almeno nascondi il pisello. Cresci, io sono un artista. Guarda, si vede da dietro. Contento? Dipingere vergogna non è roba da etero. Ora laviamo questo pennello da 2 cm. Perché non lavi il mio pennello? Pensavo fossi etero. Stai mangiando i colori? Certo, Capitanoppio. Sono cieco, non scemo. E questo verde ha pure di giallo. Dipingiamo con le teta. Che ne dite? Non serve la vista per vedere. Com'è questo prato per ora? Non sembra un prato. E forse dovresti smetterla. Non si può fermare l'arte! Cazzo. Passa la voce, prego. Chi mi ha evocato dovrà pagare con la propria anima! Ti pagherò 45 dollari per tenere la telecamera, ma non se fai lo stronti. C'è un cazzo di demone qui! Spero allora che faccia apprezzare questi bei alberelli sull'acchetto. Un tèccoci. Un bellissimo prato. Bene, Damian, abbiamo finito. Damian? Dove sei? Ah, finalmente sono da solo. Ah, Vungabal!